Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi torniamo a fare i video su questo canale Il primo canale Mario Giuseppe TV E niente, morendo di caldo Questo video sarà una prova No, non una prova Un'introduzione di un nuovo canale Non di un nuovo Si sta per creare Perché noi non chiuderemo questo canale Non lo cancelleremo Però cambieremo il nome Cambieremo immagine Cambieremo tutto Perché come io abbiamo con questo Ricominceremo da capo ma i video resteranno Quindi ragazzi Dobbiamo ancora scegliere il suo di nome Poi ve lo diciamo in un altro video Io vado in secondo E comunque io ho la maglia della Juve Che ho comprato ma non è l'originale Di Timothy Weah Dobbiamo scegliere anche il suo di nome Timothy Weah Dobbiamo scegliere anche il suo Timothy Weah Dobbiamo scegliere anche quello di piuma E ragazzi Ci becchiamo in un prossimo video No, no, no Ti vedo io comunque No Allora Ti vedo io Andate a iscriverti pure Su MarijepTV E comunque ogni giorno Perché giocheremo Giocheremo a Fortnite FIFA 23 Ogni giorno un nuovo video su FIFA Che ho pubblicato Che ho fatto oggi Però lo pubblico Se volete vi potremmo portare Fall Guys Fall Guys Rocket League Rocket League MotoGP22 Non è l'ultimo Ma basta Possiamo fare una serie di Minecraft in sopravvivenza Scegliere E niente Quindi in un altro video Faremo tutto Rifaremo tutto L'immagine I nomi Il suo Cioè io parlo e le ripeto Vabbè Che dire Noi Ci becchiamo in un prossimo video E da MarijepTV Gaming Out Out Non ci becchiamo in un prossimo video Non si chiude Chiude Non si chiude Chiude giù